Direi che possono partire le immagini subito, vediamo, è dedicata a Conti subito la prima azione e c'è niente meno che uno si chiama Galli, una ironia, che lo impegna in questa bella parata. Poi vedrete ora la punizione di Paisaola, non è quella del gol, è la prova, terranea in difficoltà e al ventesimo è Tassarella, sì, Tassarella, eccolo, dopo la prova alza il tiro e fa gol. 1-0, uno splendido gol. Il Milan effettivamente ha una reazione per 5 minuti, vi facciamo vedere subito dopo questi abbracci con applausi del pubblico, vi facciamo vedere appunto una delle reazioni del Milan, è Baresi e anche in questa circostanza Conti è bravo. Poi guardate bene ora un gol da manuale, bellissimo, guardate Carobbi, va via, aggira Tassotti, il cross e il colpo di testa, aggirare di Monelli, è uno splendido gol, dà applauso veramente. Non ci sta il Milan, 2-0, sembra un po' troppo, non ha fatto un granché, lo ripeto nel primo tempo, ed è Manzo, un ex del Viola, che per poco non segna al 45esimo. Andiamo, sono le immagini della ripresa che servono a dimostrare quanto dicevo, c'è il Milan in avanti, ticchetta, qui c'è la punizione di Bartolomei, molto bravo Conti, c'è la Fionettina che agisce in contropiede, vedrete ora, Monelli che quasi fa gol, mette fuori, e poi in chiusura, e quando finisce questa azione puoi prenderti la linea, Conti che in uscita blocca a significare appunto la sua splendida partita.